SEGUITEMI Ora vi mostrerò qualcosa di speciale. Il mondo intero è fatto di storie e tutte le storie sono proprio qui dentro, nel libro della vita. Ma la più grande storia è inizio il giorno dei morti. Un giorno in cui gli spiriti transitano tra i mondi e tutto può accadere. Guarda un po', due grandi amici. Innamorati della stessa ragazza. Voi due vi comportate da sciocchi. Aspetta, anch'io. Ti sei scelto una bisbetica indomabile, eh? Che ne dici di una scommessa? Io scommetto che Maria sposerà Joaquin. Molto bene. Secondo le antiche regole, è andata. Manolo, è bellissimo. Perderò la scommessa. Poni il rimedio, vecchio mio. Non sarò l'eroe della città, Maria, ma giuro con tutto il cuore che non smetterò mai di amarti. Un serpente! Manolo! Dove sono? Benvenuto nella terra dei morti! Cerca di non viverla tutta in un colpo. E' incredibile! Festa leggendaria ogni giorno! E abbiamo ciurro a volontà! Mia signora, la prego, mi aiuti a riunirmi con l'amore della mia vita. Se terminerai questi compiti, potrai rivedere Maria. Sono allergico alla morte! Soprattutto in faccia! Il libro della vita. Aspetta, so esattamente cosa suonare! Tu sei tutto per me! Oh, l'hai proprio conquistata, eh? Ho, l'hai proprio conquistata... Uff! Uff! Grazie a tutti.